Cana Dov'è il dallo? Dai! Non faccio 4 adesso Mi devo fare 6 Adesso faccio 3 Perché mi sculi al dà? Dai, non mi abbandonare No! Troia! Non mi abbandonare Non mi abbandonare Non mi abbandonare Ti vu Pass Mi ha spaccato bene Non mi abbandonare Eh! Io non lo so Sì sono tre terraformate eh sì però non dopo quelle tocchi tu dopo quelle tocchi tu non sono più tanto forti vai vai mettimi una bella cattura non fanno una mongagno magia oh no ok non fanno una mongagno upstart la carta più forte non ci sono stai tutta in mano non ci sono minchia sono niente eh no non me li faccio ti schianti ti fai danni mi fai danni schianto mi fai danni mi fai danni mi fai danni schianti mi fai danni schianti mi fai danni schianti mi fai danni schianti ma sei proprio fastidioso ma avevi in pezzo no non ho senso no non ho senso mi fai danni schianti mi fai danni schianti mi fai danni schianti ma non hai la carta in mano che conosco A parte l'altro Massimiliano Sciglia Entro in Battlefield Gun Attacco Attacco Sono 149-133 Con pelvi Sono 47 Nooo Nooo Che figlio L'avevi in mano Sii Spacchi ma devo ricordare rimango a ferro ma se scuoli grazie 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 Così sembrerebbe Hai scelto come sesta? Sei una cosa anche in mezzo Ciao ragazzi Ciao Gli alzo le mani Ora Belle cartuzze Ce ne sono belle cartuzze Tutto mettici tutto Tutto Ma quello c'è qua dentro Uè figa frate Uè E' online Figa E' il G-Rex Chi va? Mi sono presto Mi stai presto Sistematevi tutto sistemato Vado lì Datevi la mano Datevi la mano Vai 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 Attivo Fatto Pipicas Il Rip Nigri Gamini Termina Applare Tottle Al XML Applare Grazie.